La morte di Baller è il prezzo da pagare per garantire l'impunità a Beatrice Marani e Simone Palombo, ossia i due che avevano dato metadone Ascis alla vittima, un mix letale che l'ha portato all'overdose. Questo si legge nelle 140 pagine in cui il giudice Barlotti ha spiegato le motivazioni della condanna inflitta ai quattro amici di Matteo Ballardini. 15 anni e 4 mesi per la Marani, 14 anni e 20 giorni a Leonardo Morara, 9 anni e 4 mesi a Simone Giovanni Palombo e a Job Kubabi. Secondo il giudice erano loro i quattro compagni che quella sera hanno prima condiviso la droga con Balla e poi quando ha iniziato a sentirsi male hanno continuato a girare in macchina con la vittima sdraiata sul sedile posteriore e poi l'hanno abbandonato in un parcheggio. Trattandolo si legge ancora nel testo come un mutuo simulacro e non come un essere umano. I fatti risalgono alla notte tra l'11 e il 12 aprile del 2017. La mattina dopo, il 19enne, Matteo Ballardini verrà ritrovato senza vita all'interno della propria macchina in un parcheggio di Lugo. Le indagini condotte dalla procura hanno permesso in breve tempo di individuare i responsabili e di tracciare la dinamica dei fatti nei quali è emerso anche un giro di droga, in particolare metadone, che la ventenne Beatrice Marani si procurava in grande quantità grazie ad alcuni contatti all'interno del CERT. In questo senso, conclude la sentenza, la morte di Ballardini non pare tanto diversa dall'uccisione di un testimone chiave posta in essere da un omicida. Si elimina l'unico soggetto in grado di fornire la prova del proprio reato.